Oh Maria, mi sa che con te le cose saranno ben diverse, devo stare molto attento. Pronto Mark? Sì, senti, avrai il tuo anello tra dieci minuti al Parco degli Angeli, sì, tu sai dove. Ciao. Come non è proprio qui? Come, non ti ricordi? È iniziato tutto qui. Certo che mi ricordo. Eh signorina, qualche problema? No, grazie, niente, niente, grazie. Sicura che non posso aiutarla? No, 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 sono cose personali. Sì, no, non ho niente, è così. Vedi che sei più carina quando riti, quando piani. Questo è il tuo anello e come è iniziata qui, finisce qui. Forse è meglio così, addio. E adesso sistemiamo anche Margot. Pronto signora della Vega? Sì, sono Elisabeth. Senta, io l'aspetterei qui al Parco degli Angeli. C'è una panchina, la prima che trova. Ok, sì, aspetto, grazie. A dopo. Oh, buonasera. Buonasera signora Margot, si accomodi. Cosa aveva di così urgente da dirmi? Niente, volevo solo informarla che oggi pomeriggio ho visto Mark e ho chiuso completamente. Ah, bene, anch'io ho chiuso con Mark, pertanto si era già creata una situazione poco piacevole con Mark. Pertanto anche per me la situazione è chiusa, lui della sua vita può farne quello che vuole. Io spero solamente che le nostre strade a questo punto, dopo questione Max, non ci sia più un incontro, non ci sia più niente. Trovo utile anch'io che sia così. Va bene? Va bene. Ok, grazie. Buonasera. Arrivederci. 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 Arrivederci.